La partenza degli otto trottatori nel premio Città di Trieste sulla pista del rinnovato ipodromo di Montebello. Fra Diavolo va subito in testa, talonato da Zima e il duello a breve distanza durerà sino al traguardo. Benché tiri una forte bora il passo è velocissimo e la regolare marcia del battistrada sembra indisturbata. Ma ecco Zima farsi sotto, attaccare è quasi raggiungere Fra Diavolo ma il figlio di Mighty Ned resiste e riprende lieve vantaggio sul rettifilo delle nuove tribune. Fra Diavolo è sempre primo all'ultima curva, seconda è Zima, terzo tenebroso. La bruciante volata finale non cambia le posizioni sul palo d'arrivo. A modo suo Fra Diavolo dimostra la gioia per la vittoria.